Benvenuti in questo nuovo video della Pixel Ragazzi questo è un gran ritorno con un episodio veramente lungo Perché ho fatto un episodio di gameplay lunghissimo E vi chiederei se vi va di lasciare un like e di superare i 5000 like So che ce la possiamo fare Voglio veramente vedere se vi piacciono questi episodi full gameplay Visto che me li chiedete spesso E ragazzi ho lasciato come nella vanilla un easter egg Provate a scoprirlo perché potrebbe essere al minuto 1 come al minuto 18 Bella Pica pica Per vi buon rizzo da marci e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixel Oggi ragazzi dobbiamo fare davvero davvero tante cose Perché mi avete scritto nei commenti, tartassato nei commenti Su tantissimissimissimissimissimissime cose E quindi oggi ragazzi sono pronto per portare un video Forse un pochino più lungo del solito In quanto ragazzi abbiamo aggiornato la Pixelmon E una cosa di questa Pixelmon che non mi è piaciuta È il semplice fatto che mi lagga il gioco Guardate un po' mi va a 49 fps Quando dovrebbe andare a 70-75 con queste shaders Quindi boh ditemi voi se lagga troppo il video Nel caso vedrò di cambiare shaders Perché con questa Pixelmon è veramente pesante Considerando che io ragazzi non sono riuscita a leggere ma una 1080 Quindi boh è un po' strano Un pochino strano Comunque ragazzi oggi andiamo a provare a catturare i nuovi Pokémon di questo aggiornamento E ragazzi oggi ho già primo visto sponare un Vulpix di Alola Sono carichissimo lo voglio assolutamente catturare E voglio anche assolutamente farlo evolvere Raga come non detto ne ha sponato uno qua Ma che cazzo di culo ho È a livello 15 Boh proviamo a prenderlo Allora andiamo di Magneton Così gli facciamo tuononda Ciao Vulpix Ciao Vulpix Ok Vulpix Mosse Gli facciamo tuononda Vediamo un po' se li ce l'ho prendo Ovviamente con la Subball Perché? Perché sì perché per forza Purtroppo ne ho solo 5 raga eh Ne ho messo a fare altre ma ne ho solo 5 1 2 3 No sei liberato porco 2 Riproviamo un'altra Subball Raga a fine video lo facciamo diventare Ninthales di Alola Se riusciamo a prenderlo 1 2 3 Sbam Preso Vulpix di Alola Però è femmina Porche se mi avete detto di prendere Un Pokemon femmine o uno maschio Mi sa che mi serviva quello maschio infatti Eh sono tutti femmine i nostri Pokemon A sto punto ragazzi Buttiamo via il Piplup Lo mettiamo Anzi però potremmo far così Che il Pokemon principale Ovvero l'Empoleon è maschio Gli altri sono femmine Dai Dai la buttiamo lì così Va bene uguale Va bene Ragazzi qui ho messo a cuocere Nelle fornacce Delle Ghicocche Fatte da 36 41 E quando adesso c'è del ferro Perfetto Perché ragazzi voglio fare una cosa di fondamentale importanza Ovvero l'Anvil automatica Insomma la cosa automatica Per farci le cose cosose Mi sono già craftato Lo slime block appiccicoso Il pistone appiccicoso E sti cazzi Va bene tutto Quindi dobbiamo farci adesso Una fornace Fatta Ci facciamo le barrier 16 bastano E ci serve il pistone appiccicoso appunto Che ce l'abbiamo qua sotto Ok Quindi è pistone appiccicoso In mezzo Mettiamo questo qui E poi tutto barrier In teoria dovrebbe essere così E dai ragazzi Mechanical Anvil Finalmente l'abbiamo fatta Noi possiamo piazzarla Possiamo piazzarla anche Relativamente qua Andrebbe bene Giusto Sì Va bene Allora facciamo una cosa Mettiamo subito queste cose qua Quelle rosa E mettiamo anche quelle blu Allora facciamo così Però cacchio Sapete cosa serviva Il coal Che non me lo fa mettere Che sono un deficiente Perché devo craftare le cose Cioè Porco due Sono proprio stupido Allora Per fare quelle delle sub ball Mi sa che servivano Due blu E una rosa in mezzo Sub ball Perfetto ragazzi Abbiamo 54 Direi che possono bastare Spero Abbiamo 21 di carbone Perfetto Pensavo di averne un po' di meno Invece no Ne abbiamo abbastanza Carbone I dischi Li mettiamo E' bellissimo Guardate E' proprio bellissimo Sbam Va E va giù Cioè E' stupenda Comunque abbiamo tre sub ball Io direi di non sprecarle Qua c'è già una rorus Io volevo catturare la sua evoluzione precedente Andiamo in giro a cercare altri pokemon Perché voglio farmi per bene Una squadra Anzi Voglio anche catturare Un po' di pokemon Novi dell'aggiornamento Anche in primis Per farveli vedere Perché comunque ci sta sempre In secundis Perché magari Qualche pokemon Potremmo utilizzarlo Per la nostra squadra Di sicuro Il Vulpix di Alola Facendo diventare Ninetales È un punto in più Per tutta la squadra Però vediamo un po' Ci dovrebbero essere altri pokemon C'è il pokemon Iceberg C'è Com'è che si chiama A me sfuggono sempre i nomi Porco 2 C'è 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 Schiavo Ma che bene Ma che bene Ma che top Ma che top Ma che top Ok qua c'è un aurorus Ma io non voglio No forse questa è la versione No no Questa è l'aurorus Non so Ricordatevi che è un pokemon Fossile L'aurorus Non so Perché non l'hanno fatto Come pokemon Fossile E sta cosa mi turba E non poco Perché avrei preferito Magari farci una storiella Sul fatto che era il fossile Insomma Quella roba lì Però A quanto pare Non è stata così Vabbè Comunque è solo l'aurorus Eccolo lì Eccolo il piccolino Eccolo il piccolino Cerchiamo di prenderlo A che livello c'è 23 Ok Va bene Proviamo a buttare giù il Magneton Ok Però è andato giù il Blenpolion Se vi faccio buon raggio Muore vero È morto È morto È morto sì Ma col culo che ho Lì ce n'è un altro Andiamo a provare a prenderlo Subito E magari mettiamo il Magneton Veramente sopra Vediamo un po' Te lo butto da qua Vai Magneton 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 No Vabbè Facciamo di boll Lo so che è super efficace No Però pensavo che magari Era il 40 37 Un pochino Mi rimanesse E invece Non è così E che ci vuoi fare E che ci vuoi fare Non è che dici Cioè È così È così È andata così Può far tanto La vita è quella che è La vita è quella che è È sempre quella che è Ricordatevi ragazzi Che è tutto Tutta una merda Tutto schifoso Ma il Pokémon che c'è qua È sopra? C'è un Magneton Ma porco 2 Ma mi date i Pokémon nuovi Cioè raga Ieri ve lo giuro Sponavano tutti Sponavano Tutti Sponavano Tutti Niente Secondo me abbiamo avuto culo Prima a beccare il Vulpix E la nostra isola Adesso che vogliamo Altri Pokémon Da esplorere Da vedere Da provare a trovare Non c'è nessuno A parte che Vabbè Qua c'è la casa Del nostro vecchiettino Eccolo qua Vieni qua Aspetta Calma Calma Magneton Piano piano Magneton Ma quanto cazzo Mi stai laggando Ma quanto cazzo Stai Ok Oh Oh e dai Ok Gli facciamo un bel Tuononda Perché teoricamente Doviamo provare a catturarlo così Non abbiamo molta scelta Allora Dovrebbe essere a Maura Non sono riuscito a vedere Comunque dovrebbe essere a Maura Lui Sì sì A Maura A Mauri A Mauri Adesso riusciamo a prenderlo Sei liberato subito Proprio instant Ma veramente Cioè sei serio Uno Due Tre Preso raga Le Subball Ma cosa sono le Subball Il problema è quando dovremmo Catturare il leggendario Ma quello lì sarà veramente Un bel casino Proprio un casino Di quelli atroci Ma di quelli proprio pesanti Me l'ho dimenticato Che c'è una vietra di ghiaccio Qua Ok Perfetto C'è una posta per Ninetales Ma l'avevo proprio dimenticata Sta cosa Che bello Yeah E vai Però forse ci conviene Tornare al villaggio Perché dobbiamo Farci delle altre Subball Peraltro Ma peraltro Proprio se ci notate E anche notte Quindi direi di andare Magari a dormire Qua finito Quanti ne abbiamo fatti Ne ha fatti 18 e basta 18 teoricamente Bastano anche Per quello che dobbiamo fare Ok abbiamo dormito Abbiamo un po' di cose Qua vediamo Quanti ne abbiamo qua Intanto Ne ha fatti già 11 Direi che possiamo prendere Benissimo Questi 11 qua E iniziare a farci Queste Subball Perché siccome ci inoltriamo Sicuramente E' meglio averne Che non averne Facciamo così E mettiamo anche Dove sono questi qua Così si facevano Le Subball Così Come cazzo si facevano Ma che scemo Queste serve Ma sono proprio un difficile Raga io sto Sto delirando Ma io sto proprio delirando Veramente Ragazzi io non sto proprio bene Ultimamente Guarda Katchimon Pokémon Pokémon Katchimon Ma comunque Non so se ve l'avevo detto Ma Nell'isola Cioè insomma Nella nostra montagna Spawn dei Pokémon Mega fighi Perché lì c'è la Cold Tiger Quindi direi di andare lì Se riusciamo Perché è figo Cioè È figo Con 12 ball Però non so cosa possiamo fare In realtà Siamo alla montagna Speriamo che ci siano Dei Pokémon fichi Perché se non ci sono Dei Pokémon fichi fichi Vabbè Fichi fichi Detta così è brutto Però se non ci sono Dei Pokémon fichi Mi arrabbio Ok C'ho Magnemite 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 Oh Mai una volta Che arrivo qua Spawno tutti i Pokémon Che mi servono Ma mai una volta Ma mai una gioia Più che mai una volta Mai una volta Mai una volta Ok Alla in alto Vedo un Pokémon Guardate la minimappa Potrebbe potenzialmente Essere un Pokémon fico Potrebbe potenzialmente Essere un Pokémon fico Voi cosa ne pensate ragazzi Secondo voi è Pokémon fico Secondo voi è Pokémon fico Secondo me non è Pokémon fico È un Magnemite E dai C'è un Bergmite C'è un Bergmite C'è un Bergmite C'è un Bergmite Bergmite Vieni qua Go qui Bergmite Vieni qua Magnetone Per favore Fammi sta cortesia Che andiamo a prendere sto Bergmite A parte che mi sta laggando Cioè io c'ho una connessione Che nel 2017 Non è fattibile Ok Io non vorrei provare a fare il cannon flash Perché secondo me muore Quindi vi faccio Tuononda Con tuononda Poi vado di sub Tanto non abbiamo 12 In teoria 1 2 3 No minchia raga Se la prendevamo subito di nuovo Era proprio la meme del secolo Zaino Pokéball Subball A parte che dobbiamo farlo anche evolvere Dovrebbe diventare il Pokémon Iceberg Mi sfugge sempre il nome del Pokémon Vabbè L'abbiamo preso L'abbiamo preso Ma perché il primo di una lunga serie? Ah ok Perché è il primo Pokémon Che mi va nel box Oh yes Ma va che bello Ma quanto è bello Questa cosa? Qui a parte che c'è un altro Pokémon Lo vedete qua in alto Credo che sia Mi sa che è proprio qua in alto Vediamo un po' No È da queste parti qua Qui sotto? Cioè siamo Sono sopra io Quel Pokémon lì E qui il Pokémon Ah è un Magnemite Basta Togliete lo spawn Di Magnemite Porco 2 Basta Sto prendendo le speranze Ragazzi Sto proprio perdendo le speranze Su Pokémon nuovi Ci sto proprio perdendo le speranze Qua c'è qualcosa Non sfial Ok qua c'è un altro Ok guardate la mano Oh Magari è un Biartic Ma non può spawnare qua Cioè è un Biartic Regà Ma non dovrebbe spawnare qua Oddio Non mi ricordavo Spawnasse sulla montagna Pensavo fosse l'Ice Plains Ciao Biartic Ma è che vorresti essere catturato anche tu? Cioè Guarda Non lo so cosa ne pensi Ma io ti catturerei molto volentieri Sai il 43 Non credo che Scintilla lo tiri giù Io ci provo al massimo Ok Scintilla non lo tira giù per niente Eh è vero il Pokémon ghiaccio non è ad acqua Ok Li facciamo una Scintilla un'altra volta Forse possiamo anche tentarlo l'ultima volta Magari li possiamo fare Lo riproviamo? No non lo riproviamo Io li butterei subito una Subball Vediamo le Subball Minchia è lontanissima Cioè è proprio lontano eh Vediamo se lo prendiamo Attendi Eh si è liberato raga Naggia 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 Mettiamo il Pidgeot Magari facciamo attacco rapido se lo abbiamo Non dovrebbe ucciderlo in teoria Vediamo Oh Oh porco 2 Mi manca poco Ma non mi fai cambiare la visuale E vedere dove sta Subball Non mi fai la Subball che gira Dov'è la Subball? Si è liberato È qua sotto È andato? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo dai E dai E dai Si libera raga Non riusciremo mai a prendere quella Subball Ne dobbiamo usare talmente tante Purtroppo sta cosa che voglio catturare Tutti con la Subball Mi frena un sacco Mi frena veramente un sacco Poi non riuscire a vedere la Ball che gira Mannaggia Raga non so che fa No Ma sei ammazzato Ma no ma sei una merda Sei Ma sei una schifezza Ma fai schifo fai Ma perché l'hai fatto? Ma dai che Ma Adesso come vai È già un miracolo Graspo una Che vita di merda Andare a fare Il giorno E poi tornare E poi Perché si Di notte non credo Sponi nessuno Che mi ricordi Dovrebbe Leggersi Bunwari Poi c'è Io non mi C'è veramente Non son capace a leggerlo Ve lo giuro Non son capace a leggerlo Però vorrei andare a prendere anche lui Però è troppo in alto In questo caso Vediamo se riesco con Magne Con Magneton Oh ce l'abbiamo fatta A casa ce l'abbiamo fatta Facciamo il tono onda Subito Facciamo il tono onda Subito E gli facciamo un bel scintilla Che gli toglie un tot Proviamo a fargli cannon flash E muore Vabbè muore Muore E vabbè Ci ho provato Regà Ci ho provato Magari ne becchiamo un altro Cosa ne dite Non siamo così fortunati noi Non siamo così fortunati noi Non siamo così fortunati noi Mai eh Mai fortunati Io proprio Ve lo giuro Voglio chiamare sto video Mai fortunati Mai una volta O qualcosa del genere Qua non c'è nessuno Bastardo Bastardo Vieni qua Non te ne andare Non te ne andare Vai magneton Vai magneton Ok Magneton Magneton Sì magneton Ti prego E da Grazie eh Cioè mi hai degnato Di qualcosa Porco due Minchia abbiamo tolto Un sacco di vita Vai con le subball Daglie con le subball Però no le vedo gira Che odio quando non gira Che odio Che odio E vabbè Cioè ma non vediamo proprio più niente Zaino Pokeball Subball Non vedo niente Grazie mille È troppo gentile Veramente Grazie Così non mi fa vedere niente Si è liberato Grazie Cazzo non me ne aspettavo Che ti liberavi Io gli butto Una ultra ball a casa Lo cattolo con la ultra ball Scappo dall'Italia Me ne vado Più dall'Italia Vado via No no Raga non possiamo Non ci posso credere Mi ha preso con la ultra Ma mi ha preso con la ultra ball Non possiamo Ragazzuoli Ho deciso di tornare giù Perché voglio appunto Livellare il vulpix Vicino alla pietra di ghiaccio Cos'è meno lo facciamo Diventare un Ninthales di Alola E io volo tantissimo Volo tantissimo Gli altri pokemon Che spawnano qui nell'isola Fa niente Raga Proviamo a prendere I prossimi episodi Anche perché sto girando a troppo E veramente non spawnano Qua c'è una ultra ball Bam Master ball Eh magari E quindi niente ragazzi Non ne trovo Non ne trovo nessuno Ci sono solo Pokemon Normali Boh Non so come mai Ci sia questa Cosa che ci sono solo Pokemon normali Però vabbè Allora Qua c'è la cosa di ghiaccio Noi dobbiamo livellarlo Qua vicino Però ok Qua c'è un Sialeo Vieni qua Sialeo Vediamo se riesco A ucciderlo così Ne sono abbastanza vicino Facciamo di scintilla In teoria Non siamo troppo vicini Che dovrebbe essere In un'area di 15 blocchi Non ne sono sicuro Vediamo se Vediamo se Alola Eh sì Se Sialeo livello Rivincita E lo diamo Rivincita Se togliamo colpo coda Lui vuole nebbia Fa niente Ok Take all Eh no ragazzi Non eravamo abbastanza vicini Alla pietra ghiaccio A meno che vada a prendere Una caramella rara Che potrebbe essere Anche un'altra Un'altra Scamotage Oppure non lo so Oppure non lo so Qua sotto Eh non interaglio Vado a prendere la caramella rara Ragazzi Mi è sponato un ciubcio Un ciubciu Non so come si legga Eh non mi aspettavo Che mi sponasse in realtà Perché ero convinto Di andare a prendere la caramella rara Per fare Vpix Però io proverei a catturare anche lui Che ci starebbe un tot Vediamo un po' Sì che la vediamo girare stavolta Quando la vedo girare Lo prendo il pokemon Guarda Stranamente Stranamente lo prendiamo Quando si mette a girare Eccolo Ok l'abbiamo preso Molto molto easy Però adesso c'è la caramella rara Perché noi vogliamo Il Ninetales di Alola E nessuno ce lo può togliere Il Ninetales di Alola Nessuno ce lo può togliere Perché è uno dei pokemon Più belli Cioè a me piace veramente Un sacco È proprio bellissimo Uno di quei pokemon Che porco due E ci sta Ci sta Ok caramella rara presa Andiamo verso il nostro Cos di ghiaccio Così almeno facciamo Evolvere Alolan Vulpix In Ninetales Valola Svulps Vix Avete capito insomma Quello Cioè quello che volevo dire Era quello Ci sono pokemon nuovi qua No Sono pokemon Tutti vecchi vero Che cucciolo che è Vabbè Di notte ragazzi Fare volvere un pokemon Credo che abbia il suo fascino E sinceramente Fare volvere Un Vulpix di Alola In un Ninetales di Alola Di notte Secondo me È una di quelle figate Proprio pazzesche Quindi siamo pronti ragazzi Siamo davvero Oddio Possiamo anche evitarla Sapete La Però vediamo Che livello è Al 25 Non so se riesco a farlo Livella Aspetta Facciamo fuga Mettiamo Fammi fare fuga Grazie Mettiamo il Vulpix Al primo posto A sto punto Così dovrebbe prendere Più esperienza Almeno da quello Che mi avete detto Se io gli faccio Scintilla Muore Il tuo magneton 642 Vulpix No niente raga Non Nessuno Vabbè niente Fa niente ragazzi Buttiamo giù il Vulpix Buttiamo giù il Vulpix Ragazzi siamo carichi Facciamolo salire di livello Ragazzi Sbam Cosa? Allora Vulpix Si sta per evolvere? Mamma mia Ragazzi Mamma mia Cioè il Ninetales di Ola È bellissimo Guarda Che figata L'evoluzione nuova Che figata Che be Mamma mia Mamma mia Cosa sei Mamma mia Che cosa sei No Non voglio catturarti Ok Volevo dire se potevo cavallecarti Ma niente Che Raga Andiamo alla luce va Ma guardate in alto Quanto è figo sto Ola Un V Ninetales Ragazzi Cioè È tutto È tutto sto Pokémon È tutto proprio È bellissimo È stupendo Cioè Sei bellissimo Ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Io ho registrato davvero tantissimo Non me l'aspettavo Quindi niente ragazzi Vi ringrazio Lasciate un like e un commento Da Marci è tutto Bella